... Signore e signori, tra qualche minuto la Terra Rebbe Siamo a Cagliari-Elmas, vi invitiamo a controllare la chiusura del tavolino, a porre lo schienale della poltrona in posizione verticale, ad abbassare i braccioli, ad aprire le tettine dei finestrini e a mantenere le cinture allacciate fino a quando il segnale luminoso verrà aspetto. Tutti i dispositivi elettronici devono essere impostati in modalità d'uso aeree, i computer portatili devono essere spenti e correttamente riposti nel bagaglio a mano. Signore e signori, in qualche minuto avremo a Cagliari-Elmas airport, per favore che il tuo tavolo di trattato è alberto, il tuo sito è alberto, il tuo sito è alberto, il tuo sito è alberto e il tuo sito è alberto. Keep your seatbelt fastened until the fastened seatbelt sign has been turned off. All electronic devices must be set to flight mode, laptop, computers must be turned off, a safety stored in your hand luggage. Thank you. All electronic devices must be turned off. All electronic devices must be turned off. All electronic devices must be turned off. ... All electronic devices must be turned off. All electronic devices must be turned off. Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti.